Bene, noi ti ringraziamo, siamo contentissimi di averti avuto, il pubblico ha risposto benissimo, un grande pubblico caloroso di La Spezia, della Lunigiana, domani sarà in Lunigiana se volete vederlo, facciamo un saluto a Spezia TV. Un abbraccione a tutti gli amici di Spezia TV col cuore e speriamo di vederci molto presto per qualche altro evento. E come facevi tu? Perché io vi guardo, perché il mio cuore attraverso i miei occhi è nel vostro cuore. Vi guarda. Ciao Spezia TV, grazie Gazzepo. Ciao a tutti, ciao Spezia TV.